Ok, partiamo Scusate Devo dire che va molto bene Pieni di server Ci devo fare? Dai, su Su, su, su Ok Oh, ci abbiamo fatto Allora, 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 allora Questa multigiocatura Cos'è sta cosa? Apriamo l'alpha pack Attendiamo Ah, che figo Allora, ricompensa pacchetto L'ultimo pacchetto alfa conteneva la seconda ricompensa Velvet shell Copricapo singolare Il copricapo è disponibile per quest'operatore Ok Ah, quindi mi ha sbloccato un copricapo Cioè Un Un operatore Bella Mi piace questa cosa Tu si Vediamo qual'operatore è Ah, un defense No 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 No, questo è Ash Mute Dock No Cosa mi è sbloccato? Ah Sblocciamo No Che figa Valkyria Questo è il mio prossimo Ah, è la madosca 25.000 di fama Mmh Sì Vabbè Facciamo le simulazioni Mmh 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 Perché non ho le stelle? Mmh Beh Rifacciamo questo Affronterai dieci situazioni fondamentali di antiterrorismo Sì Prima di andare in missione Sì Fai rapporto alla base SAS di Airford Non a infiltrarti in una casa da destramento ed eliminare i nemici A distanza ravvicinata Gli operatori devono fare attenzione a ciò che li circonda Identificando minacce e risorse Conquista l'area con un passaggio lento e metodico Qui troverai un nemico addestrato Con armi ed esplosivi di livello militare Non fermarsi finché c'è una minaccia in campo Dovrai affidarti alla disciplina di tiro E alla capacità di ridurre l'esposizione al fuoco nemico Sfruttando l'ambiente Ok Eliminate tutti i terroristi Un salto Mmh Mi pensa la soluzione che almeno ci vuole un attenzione a quattro colpi alla testa Vedi? Vedi? Vedi, Anna... E' una scherzona. Wow. Oh, no. Oh. Ah, laggiù. Ci ho visto, stronzo. Dove cazzo sei? 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 Dove cazzo sei? Cazzo sei? difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti brava Anna brava meglio di niente insomma oddio no l'estrazione protegge il bersaglio mentre lo porti al punto di estrazione eliminando le forze nemiche buona fortuna si 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 ma dove cazzo sta ha ciecato distruggi due superfici usando una carica di eruzione se lo metto qua funziona non distruttibile questo si vai con Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace che panna ci pensiamo noi abbiamo l'ostaggio passate all'estrazione nemici in avvicinamento abbiamo l'ostaggio portiamolo a punto di estrazione abbiamo perso lo stagio recuperate abbiamo l'ostaggio abbiamo l'ostaggio procedere con l'estrazione attrazione riuscita ottimo lavoro bene 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 oddio adesso questo qua che non riesco a fare che minaccia un bersaglio estremamente importante è cruciale scegliere un punto di ingresso che minimizzi l'esposizione al fuoco nemico e il tempo per raggiungere e disinnescare la bomba usare i rampini è il modo più facile per attraversare l'edificio evitando scale e corridoi raggiunto il bersaglio dovrai disinnescare una bomba carica di una miscela chimica ignota ha in dotazione un disinnescatore piazzalo vicino alla bomba per intercettare il segnale proteggilo mentre completa la sequenza questa la rifarò altre miliardi di volte sicuro la missione è trovare disinnescare una bomba attraversare la bomba per intercettare il segnale attraversare la bomba per intercettare il segnale attraversare il segnale haltata in posizione errore devo ricaricare comprendemi sdannazione Ma che cazzo? 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 No! 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 Ok, vediamo cos'è sta roba Ok, vediamo cos'è Ok, vediamo cos'è No, gli ho detto a mamma se mi dice quando li Ehm, gli ho detto a mamma di me Ma che dici? Ok, vediamo cos'è Chiudi Ok, vediamo cos'è 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 Noi Ok, vediamo cos'è 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 disattivazione dispositivi i'm down no here here Grazie Sì, non mi viene bene. Grazie a tutti 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 Thank you Oh... Grazie a tutti 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 Un operatore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 5 seconde Grazie a tutti 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 Dobbiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Nemici Grazie a tutti Scudo pronto Grazie a tutti Grazie a tutti No, 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 he's here Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti